Grazie, devo stare più lontano. Grazie tantissimo, non ero francamente preparato a un'accoglienza così calorosa alla quale pure Bergamo mi aveva già abituato anni fa, proprio in quell'episodio che è stato ricordato a poche centinaia di metri da qui, allorché avevo visto una sincera attenzione verso il tema della responsabilità o se vogliamo della consapevolezza, che è una parola che a me piace ancora di più, che è quell'insieme fra responsabilità e libertà laddove la libertà è l'unico strumento per poter vivere l'esperienza della propria responsabilità altrimenti sto vivendo qualcosa di qualcun altro, altrimenti sto rinunciando alla mia possibilità di partecipare a un cambiamento che è in fondo forse, o forse no, perché è quasi una certezza, l'occasione della vita di ciascuno di noi dare un contributo al cambiamento, non consegnare alla generazione successiva esattamente quello che abbiamo ricevuto ma qualcosa che sia un'evoluzione e così è stato fatto sempre con alti e bassi e così deve essere anche per il nostro presente vedete, io ho fatto fatica, lo ammetto, a accettare di vivere questa esperienza ho fatto fatica perché non ho questa grandissima considerazione delle mie capacità perché ho la consapevolezza del fatto che vivendo un'avventura di questo genere vuol dire limitare, anzi perlomeno sottoporre a un sacrificio i miei figli con i quali ho voglia di vivere tanto tempo mia moglie che ha una pazienza incredibile e da lì parte una considerazione per il mondo delle donne molto virtuosa perché non avevo voglia di sottoporre il cognome di mio padre a delle tensioni che le dinamiche politiche ci hanno abituato caratterizzate dall'assenza di qualsivoglia rispetto che assenza di rispetto che il cognome di mio padre non merita lo posso meritare io ma questa dovrebbe essere un'altra partita però però il segmento di responsabilità o se vogliamo l'occasione per consegnare qualcosa di diverso adesso è mio adesso è della mia generazione che è una generazione che si è sentita troppe volte schiacciate da tra un futuro che non si può permettere si dice e generazioni prima che non hanno voglia di consentire autonomia ecco io autonomia la vedo con quel concetto che dicevo prima libertà possibilità di fare e allora l'orgoglio e volendo anche un po' di insistenza nel prendersi l'occasione di vivere la responsabilità del nostro tempo e perché a un certo punto ho superato le titubanze nonostante vi fossero stati degli inviti molto lusinghieri da parte di persone che apprezzo e che stimo appartenenti al mondo della politica perché a un certo punto a quelle istanze se ne sono aggiunte tantissime altre di persone che non conoscevo che non avevo mai visto che magari avevano letto il mio libro o magari qualche articolo che di tanto in tanto mi era capitato di scrivere e che tanto condividevano il pensiero sottostante comune cioè un modo diverso di intendere la responsabilità verso il bene comune che mi dicevano se lei si candida anzi che mi han detto se lei si candida io vado a votare se no non ci vado perché non credo che qualcuno oggi possa interpretare meglio di lei la possibilità di un cambiamento ecribbio di un cambiamento abbiamo proprio bisogno e tanto credo anch'io che di un cambiamento abbiamo proprio bisogno che a quelle istanze a quel desiderio a quella volontà di partecipazione sotto qualcosa un'idea a un progetto che possa dar fiducia una risposta bisognava darla e siamo qua perché questa risposta la vogliamo dare tutti assieme molti in tantissime circostanze mi dicono che non dovrei insistere sul tema della legalità ed effettivamente anche l'altro giorno guardando dei sondaggi fatti molto bene molto approfonditi un'indagine scientifica di quelle che sono le priorità per i cittadini della regione Lombardia quella voce non era nei primi cinque posti eppure Santa Pace se ce n'è bisogno perché quello che noi abbiamo vissuto soprattutto in questi ultimi due anni e mezzo ma come esito di un percorso che è molto radicato nel tempo è l'affermazione di una cultura dell'interesse personale e la cultura dell'interesse personale è una cultura antistatuale anticollettiva non a caso contraria alla nostra legislazione non a caso contraria a quei valori altissimi che la nostra Costituzione ci ricorda ci offre ci consegna a testimonianza di un percorso quello concluso prima di quella Costituzione che aveva fatto dell'individualismo una bandiera esasperata e drammatica assolutamente drammatica allora io non posso non partire da quel presupposto e non è che non posso farlo perché le occasioni della vita mi hanno portato ad accettare il senso ad accogliere a promuovere pure il senso della legalità ma perché proprio quello deve essere il nostro punto d'incontro noi non possiamo accettare di vivere in una comunità e al contempo pensare di valere più di qualunque altro componente di quella comunità e se questa cultura si è sviluppata è anche colpa di tutti noi e se non vogliamo che in futuro di questa colpa noi ci si debba pentire abbiamo oggi l'occasione per cambiare vedete tanti anni fa in una situazione di un'Italia molto diversa da questo punto di vista rispetto a quella di oggi e mi sto riferendo alla metà degli anni 70 e mi sto riferendo alla città di Torino e mi sto riferendo al momento nel corso del quale venne celebrato il primo maxiprocesso contro le Brigate Rosse qualcuno di voi ricorderà la storia drammatica da un lato e stupenda dall'altra di Fulvio Croce il presidente dell'ordine degli avvocati assassinato dalle Brigate Rosse poiché svolgeva il ruolo di difensore d'ufficio degli stessi brigatisti che in una logica assolutamente perversa volevano negare il proprio diritto di difesa per poter dire che lo Stato era brutto e cattivo beh in quel processo un avvocato ricevette una telefonata una mattina prestissimo la racconta ancora quando grazie a Dio va in giro per le scuole a spiegare ai ragazzi che cosa voglia dire vivere in una collettività e in quella telefonata gli si anticipava in un orario assolutamente inconsueto che il presidente della Corte d'Assise voleva parlargli per proporre anche a lui il ruolo di difensore d'ufficio in quel processo guardate che non a caso avevano dovuto chiamare il presidente dell'ordine e gli avvocati la stragrande maggioranza degli avvocati di Torino per paura per le minacce che venivano scritte sui muri pronunciate dalle gabbie rifiutava e che la mattina ancora non si era fatto la barba il fatto cioè che una parte della sua determinazione sull'accettare o non accettare si sia sviluppata davanti a uno specchio e che guardandosi allo specchio si sia potuto dire con grandissima franchezza tu sei libero di avere paura tu sei libero di mettere la tua vita la tua incolumità prima del tuo dovere professionale ma proprio perché tu sei libero liberamente hai scelto di fare questa professione e liberamente quindi hai accettato la condizione di trovarti oggi qui a fare una scelta di questo genere e quindi sei libero di andare dal presidente della corte d'assise e dire che hai paura ma devi essere coerente con te stesso e se così fai se vuoi cedere la paura che può schiacciare vai all'ordine degli avvocati e ti cancelli dall'albo quell'avvocato ha accettato l'incarico lo ha portato avanti anche dopo che Fulvio Croce è stato assassinato ha contribuito a che il diritto di difesa si esercitasse in quel processo anche nei confronti di chi dalle gabbie lo minacciava e quando quel processo è finito quando sono state pronunciate le conclusioni le richieste di condanna le richieste di assoluzione quando poi le conclusioni sono passate alle difese e ognuno ha sviluppato la propria difesa tecnica all'ultimo un avvocato rappresentante di tutti gli altri tutti i difensori d'ufficio ha letto un documento con il quale hanno rivendicato l'esercizio del diritto di difesa realmente esercitato in quel processo all'esito di quel documento che ovviamente richiamava il dramma dell'omicidio di Fulvio Croce e tante altre circostanze che erano accadute in quel processo vengono letti i nomi dei firmatari beh vi giuro che quell'avvocato ancora oggi quando va nelle scuole ha i capelli bianchi ha un po' di stanchezza dell'età quando racconta agli studenti l'emozione che ha provato nel momento in cui il suo nome a conclusione di quell'elenco è stato pronunciato e lui così come avevano fatto tutti gli altri si è alzato in piedi beh si commuove nel raccontare ai ragazzi che quello è stato il momento più bello della sua vita ecco io voglio che oggi noi viviamo uno dei momenti più belli della nostra vita io voglio che oggi noi mettiamo la nostra vita al servizio del cambiamento al servizio della interruzione di una continuità che è diventata sfissiante attenzione non una continuità che ha fatto solo male non una continuità che ha solo distrutto saremmo ipocriti saremmo nefasti e non costruttivi ma oggi noi pretendiamo di cambiare su quegli argomenti che sono fondanti di una comunità che è il livello etico che è il livello morale che veramente da solo può consentire uno sviluppo pieno un contributo pieno a quel segmento che vogliamo riempire io voglio che noi possiamo dire tra qualche tempo ripensando a questa sera che qui oggi abbiamo contribuito a far scattare in noi quella voglia di essere partecipi di un cambiamento quel cambiamento lo potremmo declinare in mille cose potremmo oggi dirci che dobbiamo avere una risposta per la mobilità una risposta per lo sviluppo una risposta per quei lavoratori del paese dal quale ha parlato il sindaco di prima che adesso non vedo e che hanno la loro azienda che sta chiudendo e che vivono quel dramma centinaia di persone e come loro tantissimi altri in tante valli e non solo nelle valli l'altro giorno eravamo a Lecco a incontrare gli operai che stanno occupando una fabbrica in una situazione di assoluto paradosso quella fabbrica produce ricchezza quella fabbrica funziona al suo mercato scusate ma un bicchiere di Valcalepio di troppo mi ha impastato la voce al suo mercato ma appartiene a un gruppo che non è più in grado di produrre in termini efficaci su tutto il territorio e siccome è il fiore all'occhiello di quel gruppo non può essere resa autonoma deve essere collegata necessariamente al blocco che comporta tutto al blocco dell'interattività beh ci sono cento erotti ragazzi che lavorano in quella fabbrica che la occupano da settimane e che per senso di responsabilità qualche giorno fa hanno interrotto per quattro giorni lo sciopero per consentire lo sciopero l'occupazione per consentire la fornitura di ciò che in quella fabbrica era stato prodotto e che era ancora lì conservato la fornitura al mercato per non essere loro responsabili di un pregiudizio nei confronti di altri lavoratori beh questo sta succedendo in tanti luoghi in tante circostanze dipende dalla crisi del mercato in tante altre circostanze dipende da ambizioni diverse del settore dell'impresa che vuole che ne so sempre lì a Lecco abbiamo visto in un'altra fabbrica sviluppare una tipologia di business completamente diverso che è semplicemente immobiliare che ci mancherebbe è un'attività che ha un senso pure quella ma che non può essere la ragione oggi per bloccare le condizioni di sviluppo di un territorio possiamo poi pensare che debba essere declinata quella voglia di vivere la nostra responsabilità in relazione a tanti problemi che abbiamo condiviso oggi con gli amministratori locali qui in questa sala un paio d'ore fa per l'ambiente per la montagna per il sistema aeroportuale per il problema delle scavazioni ci sono mille occasioni per declinare un modo diverso di intendere la responsabilità un modo diverso da che cosa da un modello che ha fallito su tutti i fronti no da un modello che ci ha consegnato solo cose terribili no da un modello che però andava cambiato e la rappresentanza dell'urgenza di quel cambiamento è data dall'assenza di alternanza che ha consentito una una deriva verso l'interesse personale è una deriva che vediamo in tutti i contesti lo vediamo in ogni aspetto del mercato regolamentato dalla regione Lombardia o che vede la regione Lombardia come protagonista e è proprio questa assenza di ricambio che ha prodotto gli effetti tipici di una corruzione esasperata di un malcostume esasperato di una tutela di interessi particolari lo vediamo sul tema della sanità che non dobbiamo guardare solo come una distinzione tra pubblico privato in un contesto dove tutto ciò che viene pagato col pubblico col denaro pubblico è pubblico in un contesto dove quello che deve fare la regione Lombardia è garantire il miglior servizio possibile garantire che se una donna ha bisogno di una mammografia d'urgenza non debba aspettare con l'angoscia per mesi ma debba trovare la risposta alla sua esigenza e non essere ferma dall'inefficienza di un sistema o dell'altro o dalla tutela di un interesse determinato che non prende in considerazione quelle che sono le esigenze di salute e se lo vogliamo vedere in una dimensione di salute dobbiamo ricordarci che questa non è la cura di una patologia ma questo è il farsi carico di una condizione di benessere di ogni cittadino non dei cittadini di oggi non possiamo consegnare alle generazioni future delle bombe innescate di patologie devastanti in principalità per la vita ma anche per un'economia che deve essere in grado di sostenere delle spese enormi allora abbiamo tantissime occasioni per vivere una responsabilità nuova per una nuova regione per una nuova epoca della quale essere protagonisti noi protagonisti non partecipi c'è una canzone molto interessante penso che si possa dire lo stesso in questo periodo di campagna elettorale di Samuele Bersani il vabbè di Samuele dai il è lo scrutatore non votante rappresenta quella parte di cittadini che davanti a un'opportunità si ferma sempre prima perché ha paura perché non ha sufficiente coraggio perché è sconfortato perché non crede nella possibilità di essere artefice di un cambiamento io ci credo e ci credo con voi grazie grazie